Ma chi è Chiara Zuccarini che i book dopo i book ci sta regalando la prima preziosissima trascrizione completa e integrale degli annali degli Abruzzi, dell'Antinori, la famosa opera storica abruzzese del XVIII secolo? Chiara Zuccarini definisce se stessa un perfetto esemplare di italiano, una solida formazione classica, laurea in lettere, master in archeologia, una personalità curiosa, vivace, sempre pronta al confronto verbale, da qui il suo interesse verso la storia, che lei intende come un insieme di tante storie personali, ed infine un'appassionata apertura verso l'alto, che la porta a fare di se stessa uno strumento di divulgazione, più che di analisi o interpretazione. Divulgare è il mestiere di Chiara Zuccarini e ce lo sta dimostrando in tutta questa serie di e-book della trascrizione integrale degli annali degli ebruzzi di Antinori, opera storica del XVIII secolo e attraverso tanti altri suoi e-book che vedete scorrere mentre ascoltate le mie parole. Oggi Chiara Zuccarini vive a Pescara, la più vivace e popolosa città dell'Abruzzo e lavora per lo più in campo commerciale, per sbarcare il Lunario naturalmente, ma nei prossimi dieci anni si è data come obiettivo quello di riuscire a dirigere un'impresa di ambito culturale.